Che grande! Questa chiesa è enorme, anzi non è una chiesa, questa è una basilica. Si chiama Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il nome Los Angeles viene da qui. Santa Maria degli Angeli St. Mary of the Angels and then the city of Los Angeles took its name from it. C'è anche un'altra città vicino a Los Angeles che si chiama San Francisco e anche lì il nome viene da qui perché questa era la chiesa di San Francesco, San Francis. Quindi anche la città San Francisco viene tutto da qui. Ed è enorme questa chiesa potresti trovarla a Roma per la sua grandezza. Non è normale vedere un paesino così piccolo con una chiesa così grande. Molto bella, dentro c'è un'altra chiesa piccolina, più antica, che era la chiesa originale di San Francesco. Quindi hanno costruito una basilica sopra la porziuncola, si chiama, la chiesetta di San Francesco. Quindi questa è come una matrioshka.